Ben ritrovati, come state? Un saluto a tutti, vi ricordo come sempre di commentare numerosi, di lasciare un bel like, iscrivetevi da questa parte, attivate la campanella, numerosissime, arriviamo presto a 110.000 iscritti e lasciate un bel like qui sotto se la pensate come me, cioè che così ragazzi non va bene, non va proprio bene. Poi c'è chi scrive, mi disiscrivo, non va bene perché sei detrattore del Milan, fiero, contento, andate pure, andate pure, se per voi bisogna sempre solo parlare bene di chi in questo momento è in dirigenza perché altrimenti sei un tifoso dell'Inter, ti fa quell'altra squadra, ragazzi prego, 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 fate pure gli interessi di questa dirigenza, siete la fortuna di questa dirigenza, vi fate andare bene tutto senza avere un minimo di spirito critico, siete la fortuna di questa dirigenza, ovviamente mi rivolgo a una parte minuscola di questa community. Allora ragazzi, iscrivetevi anche al mio canale personale, mi raccomando qui sotto c'è il link e guardate se non avete ancora visto il video podcast di Marco Van Basten, abbiamo superato le 32.000 visualizzazioni ma merita molto di più Marco Van Basten e il link è qui sotto in descrizione, pensiamo magari un po' anche al passato visto che è il presente. Allora abbiamo tante notizie, voi direte zero fatti sì ma tante notizie e abbiamo alcune cose da discutere insieme, intanto io rispetto tutti, ripeto, però ragazzi dai, se anche adesso di fronte a questo immobilismo, a giocatori che non riusciamo a prendere, a queste difficoltà, alle promesse che ci dicono vogliamo vincere di qua di là, di su di giù, e poi prendono Fonseca e poi non prendono Zirze e poi forse non prendono neanche Fofanà e poi ancora abbiamo preso ancora nessuno, ci facciamo andare bene tutto, ragazzi non lo so, non so. Poi ovviamente siamo tanti, tantissimo, ognuno ha la propria sensibilità a punto di vista, però dai, di fronte all'evidenza come fai? Come fai a non vedere l'evidenza? Allora, partiamo subito, intanto su Samardzic, Dalmina antrapela che la commissione di 5 milioni chiesta dal papà non è un problema, ok? Di fatto però è esattamente, più o meno esattamente, il 30% dell'affare intero, no? Un po' come era più o meno il 30%, i 15 milioni dell'affare intero legato a Zirze, più o meno. Però non vedo nessuno che conta le percentuali, perché se il Milan va bene non si va a vedere che 5 su, il Milan lo valuta 15, è il 33%, poi sarà 20, un po' di più, un po' di meno, di fatto però in percentuale il rapporto, però qualcuno faceva comodo andare a vedere in percentuale quanto era, per dire il Milan non ha colpe, il Milan fa bene a smarcarsi, è brutto e cattivo, anche lì l'hanno scoperto all'ultimo, non lo sapevano però, e ormai lo sappiamo come il modus operandi. Però guarda caso distanza con la società, nel senso che il Milan lo valuta 15, l'Udinese 25, qualcosa meno 22, 23 milioni di euro, c'è distanza. Quante volte c'è distanza? Però c'è sì del giocatore, quante volte. Però dico, ma non è che ogni tanto conviene cambiare un po' strategia? Perché il Milan fa così, trova l'accordo col giocatore e poi va dal club. Ma non è che magari così proviamo, cioè proviamo ad avere un dialogo parallelo, no? Giocatore ma anche club. Proviamo a parlare col club, a cercare di capire, di imbastire qualcosa, poi parli con il giocatore e fai le due cose insieme. Se fai prima una e poi l'altra, non è che metti con le spalle al muro, non funziona così il club venditore. Nessuno ci casca, nessuno ci ha mai cascato a questa cosa qui. Facciamo le cose bene con un iter normale, no? Perché altrimenti un rodinese, beh hai l'accordo con lui ma non con me, allora come la mettiamo? Delle volte, magari proviamo a fare delle strade alternative che magari sono più, diciamo così, corte per arrivare a traguardo. Così è, la butto lì. In tutto questo, signori, amiche e amici, abbiamo anche un altro problema. Perché Morata, unico acquisto a oggi, 24 luglio, quasi finito. Unico acquisto, 24 luglio, quasi finito. E qualcuno ancora dice, ma stiamo prendendo giocatori. Gerundio, ciao, stiamo prendendo, o lo hai preso o non lo hai preso. Con noi stiamo prendendo, non funziona. Quindi abbiamo preso Morata, appunto. Morata arriverà il 10 di agosto. Non è una colpa sua, nel senso lui ha le vacanze, diritto, contrattuale, le fa. L'Europeo l'ha fatto fino alla fine, l'ha anche vinto. Rientra, cioè va per la prima volta a Milano, il 10 di agosto. Quindi ha una settimana esatta dall'inizio del campionato. Quindi, chiaro, limpido, netto, contro il Torino il 17, Morata non c'è. Se proprio, proprio, proprio va in panchina. Ma con una settimana di allenamenti, secondo me, non va neanche in panchina. Però, in ogni caso, non parte dall'inizio. E quindi, ragazzi, anche questa cosa qui non è tanto positiva. Ci porta a pensare, mi porta a pensare, che sul secondo attaccante dovremmo accelerare. E non anche qui tergiversare. Ma andrà a finire che gioccherà magari un Ujovic fuori progetto per volontà del Milan. Oppure ho qua fuori adattato. Magari devi fare anche la seconda partita così. E magari non ti gira come devi e inizi male il campionato. Magari, spero di no. Però non bisogna lasciare nulla al caso. Morata che arriva al 10, per noi è un problema. Cerchiamo di evitare rischi che rischiano di condizionare umore, ma soprattutto classifica, campionato, prospettive. Ecco, evitiamo, bisogna partire non bene di più. Ecco, quindi questo è un problema per quanto mi riguarda. Poi, proseguendo nel video, ragazzi, su... Ecco, partiamo prima di questo incredibile intreccio di mercato che può sconvolgere un po' la nostra porta. Il Manchester City, lo raccontavamo ieri, va su Donnarumma, secondo la stampa inglese, per sostituire Ederson, che dovrebbe andare in Arabia Saudita, offerta da 50 milioni, mi sembra. Quindi, Ederson, via. Donnarumma, City, PSG. Non è un mistero che Louis Henry, che voglia un portiere bravo con i piedi, lo ha detto in tutte le lingue del mondo. PSG, che secondo alcune discrezioni, ne parlava anche, ne scriveva meglio Repubblica anche, pensa a Mégnane, portiere nazionale francese, bravo coi piedi, che unisce tutto quello che serve al PSG se fa partire Donnarumma. E il Milan, e il Milan monitora un giocatore che per me ha fatto un europeo pazzesco, a me piace tanto, tanto, tanto. È uno dei pochi che forse mi farebbe vivere meno male, meno male la partenza di Mégnane. C'è Giorgi Mamadashvili. 23 anni, 24 lì farà tra due mesi. Georgiano, alto nel 97, portiere del Valencia, con cui ha un contratto in scadenza nel 2027. Portiere molto interessante, che con la Georgia ha 21 partite. Ha fatto poi, tra Nemo Tbilisi, Valencia, il suo percorso. Campionato Spagliolo, 93 partite con 28 clean sheet. Non ha esperienza in Coppa Europea, però ha fatto un europeo pazzesco. Non riusciva a fargli gol, le prendeva tutte, davvero incredibile. Mi ha colpito in una maniera clamorosa. Ebbene, secondo questo schema di mercato, ecco, se ne parla, se ne scrive, vediamo cosa succede. Se parte Mégnane, il primo a cui penserei per sostituirlo è proprio Mamadashvili. Mi dispiacerebbe perderlo, però potresti portare a casa un'ottantina di milioni di euro. Mamadashvili ti costa la metà. Quindi hai un avanzo di 40 milioni con cui puoi fare operazioni. Poi voi direte, ma siamo sicuri che se vende Mégnane, il Milan, prende un giocatore da 40 milioni in porta? No, non siamo sicuri. Non è che magari va su un altro giocatore che costa meno? Possibile. Non è che gli altri 40 milioni di disavanzo poi se li mette in tasca? Possibile, barra probabile. Quindi sai quello che lasci, non sai quello che trovi. Soprattutto non sai come gli spendi, i soldi eventualmente che entrano. Però Mamadashvili è un giocatore secondo me pazzesco. Giocatore pazzesco. Che è destinato a diventare un top, 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 top. Su Mégnane va detto che ha anche quei problemi fisici spesso, e quindi un rinnovo che al momento non ha fatto. Vediamo che cosa succede. Ripeto, a mal in cuore, ma dovesse arrivare Mamadashvili e incassare soldi che spendi, è una cosa forse da fare. A mal in cuore sempre. Proseguendo poi nel video, ragazzi, tra poco un'altra retroscena per quanto riguarda Fofanà. Capitolo difensore. Pavlovich arriva, arriva, arriva. Al momento non è ancora arrivato. Domani la squadra parte per gli Stati Uniti, senza nuovi acquisti, con invece diversi esuberi. Questo è, è l'amara fotografia. Però guai a dirlo, sottolinearlo, eh. Detto questo, no, vabbè. Bisogna mantenere la pazienza anche tra di noi, lo dico anche a me stesso. Il Milan, se vende ciao, vuole incassare 40. Secondo me 40 non li incassa. Magari sono 30, più bonus, 35. Questa deve essere più o meno la cifra. Il Milan ha come piano prendere Pavlovich, però i soldi li ha già. Voleva 40 per Zirzee e spendere 40. Ha speso 15 per Moratti, 25 li hai già. Pavlovich doveva essere già Milanello. Damo! Detto questo, Pavlovich più un altro giocatore. Ne paravo sul mio canale personale. Volevo fare un F5, un aggiornamento. Un nome che sta circolando è quello di Lucumy del Bologna. 2026 scadenza, 26 anni, colombiano, alto 1,87. Giocatore interessante che ha 91 partite nel campionato belga, 62 nel campionato italiano, 8 in Europa League, 6 in Champions League con anche un gol. Esperienza con la Colombia, 20 partite. Giocatore che ha fatto, secondo me, un'ottima stagione con il Bologna. Mi piace, però secondo me è difficile convincere il Bologna, che ha fatto già partire Calafiori, a cederlo. Il Bologna ti chiede almeno 20 milioni di euro, se non 25. Mi sembra complicato. Mentre un altro nome che circola e torna a circolare, purtroppo, è quello di Igor, che ci ricordiamo alla Fiorentina non come un grande giocatore, anzi. L'ha preso il Brighton, lo voleva De Zerbi. De Zerbi è andato via, adesso lui può andare via. Pagato 17 più bonus. Lo puoi pagare 13-14 milioni, oppure prendere in prestito con diritto. 26 anni, brasiliano, alto 1,88. Profilo, che quest'anno ha fatto 24 partite in Premier. L'anno prima in Serie A 27. Profilo di esperienza, in Serie A sono 104 gare in totale. In Bundesliga austriaca 44, in Premier 24. Ha fatto 6 gare in Europa League. In Champions, no, se non qualificazioni. E con il Brasile, zero. Quindi è uno che non va a fare poi competizioni con il Brasile. Ce l'hai sempre lì, anche se appunto è brasiliano, ma non va dall'altra parte del mondo. Sinceramente è un nome... Poi magari viene qui, è come Kier, che non ci puntava un euro e ci ha cambiato la vita. Non lo so. Ha caratteristiche, però ha anche tanti difetti. Vediamo che cosa succede. Se vendi ciao e ti prendi Pavlovich più Igor, potevi vendere ciao e prenderti buongiorno. Punto. Stop. Senza troppi giri. No? Ambizione, voglia di vincere, potevi fare quello. Bah. Vediamo un po' che cosa succede. Ripeto, ci sono possibilità che ciao possa partire. E sono possibilità concrete. Un'ulteriore retroscena per quanto riguarda la vicenda Fofanà. Il proprietario del Monaco risulta che si sia stizzito per non essere stato scominvolto subito nella trattativa. Questo è un retroscena. E una volta la Tietico Sarabia, l'altra volta il Monaco. Vediamo un po' di rivedere forse certe linee guida. O magari, perché no, prendere un DS. Ragazzi, un DS difficilmente fa tante brutte figure una dietro all'altra. Ne parlavo nel video precedente, mi sono sfogato. Guardatelo, ci tengo. E condividetelo su vostri social se condividete il contenuto. Detto questo, ora Fofanà, quello che è circolato è Rabiot. Rabiot, ragazzi, Rabiot e Fofanà sono due cose diverse. Sono due cose complementari, ma non sovrapponibili. Cioè, una cosa e una l'altra. Quindi non c'entra nulla Rabiot. Con Fofanà c'entra zero. Mi ha bisogno di un giocatore che recuperi i palloni. Samaric c'entra zero. Meno che zero. Serve uno che recuperi i palloni, che di equilibrio, sostanza e solidità. Quindi, l'associazione con Rabiot, adesso mi va su Rabiot. No, c'entra nulla. Lo dico, anche se qualche collega, anche bravo esperto, ne ha parlato. Cose diverse. E ora che fai? Io spero che Fofanà si possa prendere. Non stravedo per Fofanà, ma avevano identificato lui nel primo obiettivo, l'obiettivo A, e portatelo a casa. Sennò devi andare dal B, profilo B, profilo C, eccetera, eccetera. Arrivati a questo punto, se devi tu imbastire una nuova trattativa con un altro giocatore, ti perdi altri dieci giorni e parti con il campionato che, ripeto, tra tre settimane e qualche giorno inizia, in cui sei lì che, boh, vediamo, improvvisiamo quasi e non abbiamo neanche la conoscenza tattica che serve. Come opzione, dovesse sfumare Fofanà, escludiamo Rabiot, che potrebbe magari anche arrivare, ma non c'entra nulla. C'è Amrabat, della Fiorentina, che piace a Ibra, che è caratteristiche comunque diverse, può essere funzionale comunque per il Milan rispetto a Fofanà, e c'è poco altro. C'è questo Rios, Richard Rios, non Richard Giri, Richard Rios del Palmeiras, che a 24 anni dovrebbe arrivare dall'altra parte del mondo e dargli subito le chiavi del centrocampo del Milan. Mi sembra un po' difficoltoso. Noi non solo avevamo bisogno di Fofanà, ma anche del vice Fofanà. E ora lo abbiamo per il momento nel 1, nel vice, figurati. Siamo in ritardo? Sì, siamo in ritardo. Ammetterlo è presa di coscienza, secondo me, doverosa. Commentate numerosi, lasciate un bel like, iscrivetevi qui, attivate la campanella, condividete questo video sui vostri social, lasciate un like se la pensate come me, che così non si può andare avanti, e guardate il video podcast di Marco Van Basten. Non solo, ve lo chiedo, iscrivetevi al mio canale personale, trovate qui sotto il link in descrizione. Chi non si iscrive, tifa per una lunga permanenza di Furlani, Cardinale e compagnia. Vediamo quanti. Per me oggi arrivano tanti a iscriversi. Un abbraccio.